E provo anche vergogna, vi l'ho detto, lo ripeto, provo vergogna, dolore e vergogna per il ruolo che diversi cattolici, in particolare con responsabilità educative, hanno avuto in tutto quello che vi ha ferito, negli abusi e nella mancanza di rispetto verso la vostra identità, la vostra cultura e persino i vostri valori spirituali. Tutto ciò è contrario al Vangelo di Gesù. Per la deplorevole condotta di quei membri della Chiesa Cattolica, chiedo perdono a Dio. E vorrei dirvi di tutto cuore, sono molto adolorato. E mi unisco ai fratelli vescovi canadessi, nel chiedervi scusa. È evidente che non si possono trasmettere i contenuti della fede in una modalità estranea alla fede stessa. Gesù si è insegnato ad accogliere, amare, servire e non giudicare. È terribile quando proprio in nome della fede si rende una controtestimonianza del Vangelo.